Musica Aspetta, finisco di scrivere a Brad, eh? Ma la smetti, ma Brad non ti vuole, noi dobbiamo pensare all'Angela, stiamo arrivando dall'Angela. Brad non ti vuole. Oddio, in effetti, fra me e l'Angelina ci vorre quei 30 kg con la coratella, forse. Infatti, io aspetta, Angela mi aspetta però. Davvero? Esatto. Ah, ma è una roba solo tra di voi? Esatto, no, ci devi essere anche te. Mi raccomando, Angela mi aspetta. Angela mi aspetta, lo fai in fretta. No, 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 no. Andavo a censo a loro per trovare l'Angela mia. Ebbè, bebbè, 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 bebbè. Angela, ma dove siamo? Cioè, quale delle tue vigne? Allora, qui siamo a vigna Casanova dell'Aia, quindi siamo proprio a ridosso del paese. Ed è la prima vigna che la mia famiglia ha acquistato, quando c'era ancora il mio nonno vivo e quindi questa per me è la vigna del nonno, che mi ricorda lui. Ma soprattutto è, diciamo, dove tutto ha avuto inizio. Sì, sì, sì. Senti, in questa uva cosa è? Questi grappoli, cosa sono? Questi grappoli sono Sangiovese. Lo hai detto sospirando perché il Sangiovese fa sospirare, per la verità. Il Sangiovese è un vetigno bellissimo, però un po' faticoso. Quindi bisogna stargli molto dietro, bisogna, a seconda poi dell'annata, gestire la vigna in modo diverso. Quest'anno abbiamo sfogliato perché ci sono state delle piogge recenti. Ecco, sembra in effetti, diciamo la verità, qui sembra che tu sia venuta, che tu l'abbia preso, sprazzato, spolverato e tenuto perfettamente. Sfogliare vuol dire fargli prendere un po' più di sole, quindi? Fargli prendere, sì, più che altro un po' di aria. Un po' di aria, in maniera che rimane asciutta in questo momento e si evita l'umidità. Quindi è un lavoro che non va qui, questo ecco, questo è la vigna. Il fatto che tu l'abbia fatta in questo modo, che quindi a certo punto i tali ci vanno qui, che sistema si chiama quando uno fa così? Questo si chiama cordone speronato. Quindi proprio perché ci sono a certo punto questi sperone e qui da lì nasce tutta questa palo in legno perché alla fine diciamo... I pianti elastico, piarrada, palo in legno. Ricordiamoci, ci vuole tutti i pali in legno per rispetto all'ambiente e al territorio. E a questo punto, te diciamo, hai fatto tutto perché tutto vada in porto, bisogna solamente aspettare. Bisogna aspettare, quindi... Quindi perché tu hai San Giovese, hai anche un po' di Merlot, però quello è già in cantina. Sì. A questo punto bisogna aspettare un attimo per quello. Bene, a questo punto io sono curioso di capire questi vini così blasonati, soprattutto quest'anno. No, ma non ne parlo io perché ne vuole parlare Gaia, vuole sapere un sacco di cose di tutti i premi che hai vinto. Grazie. Allora, siamo a Radda con Angela che ci ha spalancato le porte di Istine. Istine, ragazzi, è una realtà straordinaria. Raccontaci un po' questa azienda nella quale riversi ogni giorno amore, testardaggine, grandi obiettivi che stanno raggiunti, ma ancora non vi diciamo il pezzo grosso. Quindi la storia di Istine, com'è nata? Allora, è nata dalla famiglia, chiaramente, perché mio nonno insieme a mio babbo e mio zio hanno comprato dei vigneti e hanno cominciato a fare del vino, del vino però per casa o da vendersi sfuso. Poi sono passati gli anni, io sono cresciuta, mi sono laureata, ho fatto la mia esperienza e finalmente nel 2012 comincio a lavorare qua con la mia famiglia. Chi è più fortunato di me a produrre vino a Radda in Chianti, nel Chianti Elastico. Quindi sì, devo dire che le esperienze passate sono state importanti, devo ringraziare la mia famiglia perché comunque se non ci fossero stati loro e non ci fossero tuttora ora, questo non sarebbe possibile realizzarlo. Quindi diciamo, Angela si impegna a 360 gradi in Istine dal? Dal 2012. Dal 2012, signori siamo nel 2016 e anche se Angela fa la vaga e non lo dice, te lo voglio dire sulle campane, si può? Quest'anno, sembra fatto un posto, Angela si porta a casa tre bicchieri e anche il premio come cantina emergente. Davvero, ancora non ci posso vedere, sono contentissima. Cioè, e a Radda suonano le campane, è chiaro? Allora Angela, questo è un anno importantissimo perché ti sei portata a casa tre bicchieri e premio cantina emergente. Io voglio sapere com'è andata quel giorno lì, cioè il giorno in cui per esempio hai scoperto dei tre bicchieri. Ecco, diciamo che ho ricevuto una telefonata, stranamente ero in ufficio dove non ci sono quasi mai, quindi rispondo al fisso ed era la curatrice della guida, Eleonora Guerini, che mi chiamava per dirmi... Quindi un'altra donna. Un'altra donna, sì. La tua reazione? La mia reazione, allora, inizialmente quando ancora non aveva detto dei tre bicchieri, insomma, che mi avevano detto, ma che cosa vorrà nel gambero rosso? Cioè, non capivo, cioè non me l'aspettavo. Perché mi chiamano, esatto. Perché mi chiamano, no? Così, quindi io che non ho mai preso niente, no? Quindi, e poi mentre stavo al telefono cercavo di rimanere seria, no? Però poi non ce l'ho fatta, con ce l'ho detto, no, sono troppo contenta, sono troppo contenta, grazie, grazie, no? Così, e poi, vabbè, chiaramente... Allora, hai riattaccato e poi cos'è successo? L'hai detto subito a chi? Allora, nella stessa stanza, in quel momento c'era una ragazza che ha iniziato a collaborare con noi da poco, che fa un po' da jolly, tante cose, e lei ha capito un po' di cose, stava lì ad ascoltare per cercare di capire, scrive, io riattacco e faccio un urlo. E' certo. Faccio un urlo, serie! Ci siamo abbracciate, no? Così, cioè, quasi fianto. E poi è arrivato da lì a poco mio fratello, mio padre, e quindi sì, e poi ho cominciato a fare delle telefonate alle persone un po' più intime, perché comunque, insomma, si doveva mantenere la notizia riservata, e quindi... Certo, certo. E poi, specialmente il premio sulla cantina emergente, ho cercato un po' di dimenticarlo, no? Perché ero troppo felice, e quindi per darmi un po' una calmata, perché sennò era un po' troppo evidente, no? Ora, visto che ci sono due premi importanti, Angela, e visto che c'è una premiazione, io, in quanto consulente di immagine, ti devo dare dei consigli. Quindi la domanda è, come ci si va vestiti alla premiazione? Non so, abbiamo pensato a un tuvino nero passepartout? Ah no, io pensavo di andarci così. Non va bene? Vieni, si va a vedere se c'è qualche negozio aperto. Angela, qui esce acqua da questa fontana, ma noi vorremmo che uscisse vino. In mancanza di ciò, meno male ce lo porti tu, ma sono tante le etichette, tante le bottiglie. Tu quasi mi arrivi a chiedersi, ma come mai fai tante etichette, eppure non è che hai una quantità incredibile di vigne, ma sono dislocate in punti diversi. Quindi? Sono dislocate in punti diversi, perché sono state anche acquisite in momenti diversi. E quindi mi diverto a vedere come ognuna di loro si esprime a seconda dell'annata. Ci sono esposizioni diverse, altitudini diverse, suoli diversi, pur essendo comunque concentrate per la maggior parte a radda impianti, e in una parte, quelle più recenti a Gaiole, sulla parte di Bertine, quindi zona alta del Chianti classico, ricca in galestre e alberese, però hanno delle espressioni molto diverse. Senti, ma in questo contesto direi che quindi diventa ogni anno una scoperta, anche perché volendo un'altra chiedetta ci dovrebbe essere, vero? Quella di quando eravamo prima in cantina, questi anni non l'hai fatta. Esatto, questa è l'annata 2014. Senti, metti i papi, posso aprire una bottiglia? La posso aprire? Cosa apro? Apriamo una riserva 2013. Eccolo, finalmente. Anche perché questa è la riserva che ha preso tre bicchieri, cioè io a questo punto sono veramente curioso di assaggiarla. Allora dai, raccontami, manca proprio quella vigna, perché quell'anno non era andata granché bene. Sì, allora, in realtà una parte del vigneto è stato esterfato e rinnovato, perché era vecchio, era di buono, è strinomato. La parte piccola che è rimasta nel 2014 è stata un'annata piuttosto difficile, però a Radda comunque abbiamo prodotto dei vini buoni in generale sul territorio, però è una vigna che ha sofferto abbastanza, essendo ridotta ed essendo forse quella con il suolo un po' più spugnoso. Quindi nel 2014, ahimè, non abbiamo il Casanova dell'Aia. Senti, però raccolta bene, il tuo stile si può paragonare, per esempio, a un Piemonte, a una Borgogna? Diciamo, forse, magari, magari ambizione, abbiamo delle ambizioni e degli obiettivi forti. Sì, diciamo che assomiglia come modo di lavorare, perché benificiamo vigneso per vigneso, lotto per lotto, non soltanto durante la fermentazione alcolica, ma anche nel periodo di affinamento in botte, uso soltanto botti grandi, non uso barricchio, quindi cerco di tenere tutto separato fino alla fine. Quindi il piante classico annata è comunque un vino l'assemblaggio, ma l'assemblaggio avviene un mese prima dell'imbottigliamento, quando veramente si capisce come evolgono i San Giovese di ciascuna vita. Quando si parla dei grandi vini, c'è sempre una campana che suona. Il suono delle campane accompagna sempre un grande vino, e in questo caso, questo vino ha conquistato il pubblico grazie a alcuni elementi. Secondo te, ecco, di passione cosa diresti? Io magari lo dico da, diciamo, critico, ma invece da parte tua, cioè, quali gli elementi si dovrebbero vedere le persone che dicono acqua. Ah, che San Giovese, ah, che eleganza. Vino sincero, che sembra una poesia, no? Però mi piace molto perché dicono che si sente il territorio, che si sente il Sangiovese, che questi profumi non sono, diciamo, traviati da una vinificazione diversa in cantina, o troppo legno, o troppo chimio, quindi che sono dei vini sinceri, che sono dei vini di territorio. Questo per me è un bellissimo complimento. Io sto attenta, no? Guardo, vedo... La mia espressione lo dice che sono stato contento, vero? Io allora, sapete cosa faccio? Io lo prendo e me ne vado. Angela, è stato bello. Ciao! Ciao! Allora, io direi un tubino nero. Un Armani, un po' un capoclassico e un po' spartuato. Ma di cosa stai parlando? Del suo vestito per la premiazione! Io ti porto in giro per parlare di vino. Alla grande produttrice, come lei, e te mi parli di Armani, del vestitino, del tubino nero? Oddio, forse il tubino nero si sarebbe bello. Andiamo, dai, 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 dai. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!